ciao alcune delle opzioni principali che val la pena guardare perché sono veramente tante nei tool quelle che useremo più spesso allora l'abbiamo già usata la voce radius per ingrandire il segno e rimpicciolirlo c'è un modo ancora più semplice uguale allo scalping se voi premette f sulla tastiera mentre state disegnando appare una piccola anteprima della nuova dimensione del pennello quindi adesso ho ingrandito la dimensione del pennello tenete conto in ogni caso che questo raggio nel caso ci sia questa spunta è il raggio massimo raggiungibile se devo disattivare l'uso della pressione per poterlo vedere fate anche caso che la dimensione che vedo a schermo non è esattamente la dimensione finale ma è una specie di anteprima se io abbasso qui di molto mi ritrovo un segno molto più sottile dell'anteprima se la alzo il più possibile non arrivo comunque a quel cerchio perché in qualche modo nella situazione in cui ci troviamo adesso in 2d animation ci troviamo distanti dalle linee in questione e quindi l'anteprima è un po come il segno se fosse qui esattamente davanti alla telecamera ma siccome il nostro è un po più lontano tenete conto che l'anteprima che vedo non corrisponde in dimensioni esattamente al risultato però potete vedere che cambia il valore di radius appunto in modo più semplice quindi f allargo e tocco e posso ingrandire facilmente allo stesso modo anche strength ha una variante vediamo intanto prima di tutto strength se l'abbasso significa e disattivo un attimo la penna significa che il segno è trasparente se ci passo più e più volte vari segni successivi uno sopra l'altro piano piano arrivano a un segno più scuro quindi se lo metto a 0 5 passo già un 2 3 volte 4 volte ecco sono già arrivato al nero quindi è un'opacità che può essere diciamo aumentata con passaggi successivi non sempre fate caso è possibile arrivarci con lo stesso segno cioè sono segni successivi uno sopra l'altro ma lo stesso segno non va a inspessire le altre parti di se stesso diciamo se faccio un incrocio con lo stesso segno l'incrocio non avrà l'opacità doppia mentre invece se incrocio due segni avrò l'opacità doppia nel mezzo questo strength è possibile cambiarlo con maiuscolo F quindi se mi abbasso avrò un segno più leggero se mi alzo avrò il segno il più nero possibile ovviamente nel caso della matita abbiamo anche l'uso della penna quindi voi potete metterlo molto molto pesante e poi regolarvi con l'uso della matita per l'effettiva dimensione quindi F e maiuscolo F questo qui è come deve finire il segno quindi vedete adesso ingrandisco un po' il segno se traccio in questo modo i segni finiscono diciamo quadrati poi un pochino dipende anche da cosa succede con la penna quindi non sempre ecco adesso sta funzionando non sempre funziona ma è solo perché all'ultimo do un colpetto con la mano e quindi finisce per esserci quella quella curvetta perché sono io che sono pian piano tornato indietro mi viene spontaneo mentre invece se state molto attenti finisce diritto se invece scelgo questa funzione il segno finisce sempre arrotondato queste sono intanto le due opzioni principali e la loro scorciatoia dopodiché come vedete in queste voci ce n'è tante altre e la possibilità di andare a regolare il segno lo vediamo nella prossima lezione per ora grazie e alla prossima